a volte in maniera democratica chi è? lo vedi Fido? no che timi fedri lascia un'intervista su youtube e televisione no comment no comment per l'acquisto di una linea no comment mi dispiace 8 miliardi 8 miliardi 25 miliardi di euro? li spendo in troia 5 mila euro ciao metto ancora da 15 donne vedendo come i cani li porto in giro con il guinzaglio e tu troia li fa cosa stai combinando ma hai pinto le palme con la vernice fluorescente con il guinzaglio attenzione è passato da un sacco di gente si si mi ricordo e quello aveva un figlio e poi aveva spento con i vari piattini con le righe già pronte le righe e le cose arrotolate e quindi si 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 è dell'aspetto quindi proprio c'era proprio fititi quel cavo quindi c'era un marasma di gente e così e lei il panino formaggio porchetta maionese la maionese scattava la cola maionese 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 avevamo detto la porchetta e la maionese ottavia e lui che fa sei quella sera e sei un po' teso capito e lui mi fa quella sera ma sei un po' teso eri un po' teso eri un po' teso l'ho haul grasso salivo arm sei maSE davevo il video richiesto al padre di nina ecco il cuoco che sta molestando il ruot Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.